L'assessore all'ambiente Carolina Vicinanza chiarisce la sua posizione dopo le voci delle ultime settimane relative a sue possibili dimissioni. Una decisione confermata dall'interessata che negli studi di Sud TV ha dichiarato di aver consegnato le sue deleghe nelle mani della sindaca lo scorso 11 luglio. Voi sapete benissimo che c'è un redigendo nuovo assetto della giunta, per cui io lo dico, ho dato le mie dimissioni in mano della sindaca l'11 luglio, però la sindaca ancora non le ha protocollate. Probabilmente, voglio dire, credo che lei aspetti di trovare il nuovo assessore all'ambiente, perché voglio dire, probabilmente non possiamo stare con tutti questi problemi. Non vorrei essere nelle vesti di un eventuale nuovo assessore all'ambiente. E' lì la difficoltà, soprattutto oggi. La vicinanza l'avremo ancora per un po' con l'assessore all'ambiente. Non lo so, io spero di no, perché voglio dire, se si deve fare questo nuovo reassetto, è bene che si faccia anche per dare un equilibrio maggiore, una stabilità maggiore all'amministrazione. Quindi, io voglio dire, ecco, quello che potevo fare, visto che la sindaca non ha consegnato le mie dimissioni, potevo io di persona andarle a depositare. Però, soprattutto in questo momento, non mi sembra proprio il caso, perché daremo spazio ad avventori, a sciacalli, che voglio dire, sguazzano bene in queste tragedie.